Ciao a tutti ragazzi, sono Lorex Mecca e benvenuti in questo nuovissimo video di Roblox. Uh, sono invitato al torneo del potere, accetta, accetta, accetta. Io ho accettato. Tra, tre, due, un... Comunque sono in compagnia di un ospite che non ho mai portato. Parla, Marcoide. Marco, io. Ah, ci stanno uccidendo. Fermo, fermo, ti aiuto. No, mi hanno shottato. Ah. Dai, muori, muori anche tu, Marcoide. Vai. Va bene. Io mi trasformo intanto. Per questa volta, colpisci di brutto schifoso. E fai del reset chatter, scusa. Una faccola. Quanti like devono lasciare per il tuo arrivo? 2000. No, 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 solo 45 iscritti, meno di 40. Decidi. Ok. Eh, fammi pensare. Facciamo... 30. 30 like? Va bene. Avete sentito, Marcoide? Ecco. Quindi 30. Io intanto sto per diventare un'altra trasformazione. Qua c'è un Super Saiyan God. Io ora divento Mystic. Dai, più avanti, più avanti. Sì, mi sto per trasformare. 3, 2, 1. Sì. Modalità. Super Saiyan Mystico. La prossima volta ti straccerò. A me? A me? A me? Sì, secondo te puoi... A me e tu? Io sono... Ho cambiato trasformazione. Nel torneo del potere, mia niente. Io sono diventato ancora più forte. Sono diventato Ultimate Lorex. Ah, è tipo lì. Eh beh, ti batte comunque. Non è vero. Oddio, qua c'è un Super Saiyan Blue. 3. What? No, anche io mi fondo allora. Non è giusto. Potara, facciamo Goku. Adesso il mio potere cresce. Certo che sei un po' dei secchi. Marcoide, dove sei? Marcoide. Io sto volando. Torna allo Spawn. Marcoide. Dove sei? Vengo. Ci vediamo allo Spawn. Dove si spawna? Fai Reset Chatter così mi trovi lì. Certo. Io tra poco divento Super Saiyan 4. No, ci pareva. E tu che diventi? Ancora Super Saiyan 3. Ciao. Questa è la mia altra trasformazione. Il Mystic Super Saiyan. Che fai. Vabbè, fa niente. No, il PvP è disabilitato, il PvP. Ti piace il mio toro? Il tuo? Torno. Sì, mi piace. Ci vediamo alla stanza dello Spirito e del Tempo. là sopra, eh. Vedi? Dove si è scritto Camera del Tempo. Poi dopo andiamo in città. Ero già andato in città. Vabbè, adesso vai alla Camera del Tempo. Però... Aspetta, voglio essere Super Saiyan 3. Mi manca pochissimo. Ti manca poco per diventare 3. Io intanto mi carico l'energia. Io tra poco divento Super Saiyan 4. Beh, diciamo, proprio fra poco è un parolone, ma arcoide. Punt, punch, 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 punch. Chiamame, ah-ah! Sprint Bomb! Però prima ci ricarichiamo, perché altrimenti non possono fare proprio niente. Voglio vedere la Sprint Bomb del Mystic. ok ho startato il video di nuovo torre di corin vabbè non va dalla torre di corin sentiamo io voglio solo ecco ti sei super saian 3 ce l'hai fatta finalmente io tra poco divento super saian 4 oh perchè mi attacchi ma qua mi puoi togliere oh ma ci possiamo attaccare vabbè basta così direi perchè io voglio diventare sempre più forte e infine arriva l'allenamento finale beccati questo marco loide si è morto marcoide che forza qua il pvp nello spawn è vietato quindi ok io tra poco divento super saian 4 e ti sorprenderò con il mio potere così tu non mi potrai mai più battere nella tua vita neanche nei sogni nemmeno 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 su passaggio su passaggio in 4 marcoide ci sei tu no vediamo se è nel server si marcoide è nel server marco loide marcoide e vabbè tu vuoi darmi uccidere no perchè io sono dalla stanza del spirito del tempo e tu non sei alla stanza del spirito del tempo dai tra poco mi trasformo che ci vuole dai 1 e 2 e 3 e 4 e 5 dai manca pochissimo poi ti faccio vedere torno alla base così nessuno ci può attaccare e poi ti farò vedere che cosa sono diventata da me da me tu vuoi uccidere no e neanche tu certo ti giuro si 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 super saian 4 super saian 4 super saian 4 ma certo la coda me la poteva mettere marco loide non mi uccidere che sono più superiore vai io intanto mi carico oooh oooh comunque il super saian 5 è bellissimo quindi sei teniti pronto anche per questa metto 4 e 4 ah bra ah no a mystic ah che fatto ehi che c'è mi hai fatto ma eheh marco loide ma mi prendo tutta la mia energia oh va bello oooh aaaah aaaah ciao ciao arrivederci è stata una bella giornata si ciao marco loide comunque sto schivando tutti i colpi io intanto ogni attacco che do divento sempre più forte e la vita anche mi aumenta cioè mi diminuisce non so perché quindi al massimo avrò solo uno di vita la trasformazione comunque io vi vorrei far vedere quante trasformazioni ci sono leggendario oro ultraistinto il massimo ma che cosa sono tutte ste trasformazioni ooooooooh chi c'è io vado alla torre di corin io vado io vado appunto dove tu dove si rinasce così non ci possiamo attaccare bella mossa amico maaa uish arrivo wiii ma no ti sei trasformato io intanto io intanto mi alleno devo diventare super saian 5 che è super bello te lo faccio vedere dopo no qua c'è un vero super saian god che si chiama 9 ma 9 la non la uccidere l'uccido io adesso io devi fare una sfera genkidama Genkidama Sb Sb vai Sb Sb vai Sb Sprint bomb Ok adesso posso tornare a casa Io vado dal genio delle tartarughe Anzi la nave capsula Laggiù c'è la nave capsula Nave capsula 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 Ci mettere una vita ad arrivare al super saian 5 Mi sa No la capsula per andare su una mecca Sì accetta il torneo del potere 3 2 1 Ma ti hanno già sciotta No Quello non sei tu Vai Puoi ma Te lo scorni Dai Vai 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 nel prossimo torneo del potere mi vedrai super saian 5 vedrai sempre se ce la faccio ad arrivare al torneo al prossimo torneo del potere no uno ha vinto il torneo tre no sta a fianco a me quello che ha vinto il torneo chi tu che cos'è io intanto sto sono arrivato a metà per la mia trasformazione in super saian 5 tra poco ci arriverò forse da quello posso uccidere treo treo kame a me ha a da ne do a quattro to or a un u 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 oh non mi manca molto marco loide marco ide tu dove sei io ti vedo se non hai raggiunto ma io tra poco sono super saiyan 5 mi dispiace che cosa non ho capito no 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 la si deve vincere perciò ti devo per forza uccidere pure tu devi uccidere me e io tra poco ci divento io sono più della meta mi sa che il super saiyan 6 mi troveranno nel torneo del potere i miei pugni stanno diventando più forti ogni attacco che do io si oggi sono arrivato oramai marcoide ti posso dire una cosa la vuoi sapere davvero è molto bella la mia notizia vederla non c'è la cola però ma perchè non mettono le code ah ma perchè non mettono le code non lo so perchè non mettono le code ma dovrebbe metterla e per il super saiyan 6 si mette un eterno mi sa che andrà al torneo del potere super saiyan 5 io sono a metà ok bene ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto dall'orex mega tutto noi ci vediamo domani in un prossimo video ciao ciao